Banca Mondiale e Cina concordano, l'economia asiatica per evitare un brusco arresto deve avviare delle riforme strutturali. Prima di tutto deve smantellare le industrie di Stato e rinunciare ai monopoli nei settori strategici. Il suggerimento arriva dagli esperti dell'Organizzazione Mondiale, per i quali il modello di crescita degli ultimi 30 anni, in cui il PIL è cresciuto in media del 10% e basato su esportazioni e investimenti pubblici, non è più sostenibile.